Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video che oggi vi spiego dove trovare il rancore dell'antica morte uccidendo l'uccellaccio di morte dobbiamo recarci qui in questo posto e accelerare il tempo fino ad arrivare alla notte e fermarci qui e aspettare che lui sponi così all'improvviso dal cielo e cominciare così il duello ad affrontarlo e poi una volta ucciso ci dropperà all'incantesimo eccolo qua l'uccello se volete vedere il video precedente su come ammazzare questo uccello e in cambio vi darà anche un'altra cosa e quella cosa sarebbe un incantesimo della fiamma spettrale esplosiva che vi potrebbe anche servire quindi questo è il mio secondo uccello di morte che ammazzo qua e niente mi ha dato quell'incantesimo sempre le stesse mosse fa è sempre le stesse mosse da infame fa veramente la scia l'esplosione è sempre più semplice ucciderlo non ci vuole niente quell'incantesimo che ho usato è l'annullamento del consumo dpa quindi se ti interessa sta una guida sul mio canale come trovarlo e annullare il consumo dpa per almeno 10 secondi che vi permetterà di ammazzare un boss subito subito se usi la cometa di azzurre solo magia 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 tutto questo cometa don'turna e niente poi è morto morto almeno quell'altro mi ha dato 440.000 lune rancore dell'antica morte adesso andremo a provare questo incantesimo niente ragazzi quindi grazie a tutti per questa visione se il video vi è stato utilissimo lasciate like come sempre attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornato sul canale e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao